Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale, come potete vedere sono Alucca e sono qua con Misterion e con Dekun questi fantastici supereroi e non so quando uscirà questo video ma sono qua per dirvi che c'è un'ambulanza che sta passando dietro e che quindi non si sentirà niente di quello che sto dicendo sono qui per dirvi che mercoledì sarò a Copenaghen per la presentazione ufficiale di Hitman Absolution e che stiamo preparando un grandissimo evento di streaming legato anche a un concorso e in pratica faremo uno streaming giovedì quando fanno da Copenaghen insieme a tutti i nostri compari Yuri, Latana del Drago, Baglietta, etc. e oltre a questo c'è un concorso che voi potete trovare sul canale di Yuri ma che io linkerò qui sotto in cui potete vincere Hitman Absolution e oltre a questo potete anche partecipare allo streaming che faremo giovedì legato a questo evento di Copenaghen quindi andate a vedere Yuri, iscrivetevi al concorso, iscrivetevi al canale di Yuri, iscrivetevi al mio avete pochissimi giorni per partecipare e per vincere quindi sbrigateli, un saluto da lui